La relazione che ha rilasciato l'ingegnere diceva in maniera chiara e netta che l'edificio non veniva verificato, la statica, il che vuol dire che l'ufficio tecnico l'ha reso inaccibile. La niccibilità per me vuol dire fare l'ordinanza di chiusura dell'edificio. La sicurezza delle persone sono la priorità, dei bambini poi, vuol dire, è una cosa fondamentale. Chiusa la scuola elementare di Subbiano, come disposto dal primo cittadino Antonio De Bari. Da lunedì prossimo, quindi, 270 persone tra studenti, insegnanti ed operatori saranno trasferiti. La scuola era stata costruita negli anni 20, aveva poi avuto un ampliamento tra il 1960 e il 70 ed il tetto in questione era stato ristrutturato nel 1993. Infine nel 2005 il Plesso aveva ricevuto lavori di miglioramento sismico. Ma ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'ingegnere che stava effettuando la verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio in questione che ospita appunto l'elementare Sandro Pertini per carenze statiche. Prima di fare la valutazione sismica si fa la valutazione statica di norma, è salito su nel tetto e si è reso conto in prima battuta della differenza del progetto dalla realtà. E questo l'ha messo subito in sospetto e gli ha dato qualche problema. Oltretutto dice cavolo qui cosa sta succedendo? Ha visto poi andando a questo punto a indagare in maniera più approfondita che il tetto è semplicemente appoggiato sopra la struttura. Mancano tutte le cuciture che normalmente il tetto si fa. Le 11 classi saranno dunque ripartite negli altri istituti scolastici del comune. Allora le terze, le quarte e le quinte abbiamo trovato la sistemazione alle scuole medie, le prime e le seconde le abbiamo trovate, le prime all'istituto palazzeschi, le seconde all'istanza di Leachi. Settembre invece cosa comunque avete in previsione? Allora per settembre ancora è presto perché ovviamente questa è una tegola che mi è caduta fra testa e collo oggi, bisogna nei prossimi giorni valutare la progettualità, l'investimento che dovrà essere fatto su quell'istituto. Non so che tipo di intervento e quanto onerosi saranno questi tipi di interventi, perciò la scelta sicuramente andrà vista sotto quest'ottica qui.